Casoli è stato uno dei centri nevralgici della resistenza in Abruzzo e fare qui, celebrare qui la festa della liberazione consente di sottolineare le pagine di storia non sempre adeguatamente sottolineate e conosciute scritte della resistenza nel mezzogiorno d'Italia. In questa regione, così bella Presidente, così fiera, si svolsero tra il 43 e il 44 alcuni episodi più drammatici e decisivi della lunga e sanguinosa guerra per liberare l'Italia dal nazifascismo e per restituire il nostro Paese al novero delle nazioni democratiche e pienamente civili. Lungo lì in Augusta si produceva, in una scala ridotta, il conflitto mondiale che opponeva la Germania italiana e i suoi marginali alleati europei a eserciti venuti da ogni parte del mondo. Tra queste montagne, così alte e innevate nell'inverno, sulle pendici del Gran Sasso, nelle valle della Maiella, tra paesi e borghi d'alta quota, nacquero spontaneamente nuclei del movimento di resistenza al nazifascismo, i primi in Italia. Non fu per caso che gli uomini della brigata Maiella scelsero per sé stessi il nome di Patrioti, la stessa denominazione dei giovani che rischiavano la morte in nome dell'Unità d'Italia. La resistenza fu un movimento corale, ampio e variegato, difficile da racchiudere in categorie o in giudizi troppo sintetici o ristretti. A lungo è stata rappresentata quasi esclusivamente come sinonimo di guerra partigiana nelle regioni del nord Italia o nelle grandi città. E tante insurrezioni da Napoli a Matera, da Nola a Capua, alle Tante in Abruzzo, attestano la percezione da parte degli italiani della posta in gioco. Da una parte i massacratori, gli agruzzini, i persecutori di ebrei, dall'altra la civiltà, la libertà, il rispetto dei diritti inviolabili della persona. Nella lotta al nazismo il popolo d'Abruzzo fu particolarmente esemplare, pagando un tributo alto di sangue che va ricordato adeguatamente, con riconoscenza e con ammirazione. Si aprirono così, tra questi monti, i sentieri della libertà. Pastori, cacciatori, guidolocali, accompagnavano generosamente soldati alleati e italiani, ebrei, fuggiaschi e perseguitati al di là della linea Gustaf, mettendoli in salvo. Tra questi fu anche, come è stato ricordato, il mio illustro predecessore, Carlo Azzeglio Ciampi, in fuga con un suo amico ebreo, Beniamino Sadun. La nascita del momento della resistenza, che mosse qui, in Abruzzo, i primi passi, segna il vero spartiacque della nostra storia nazionale verso la libertà. Chiude la fase della dittatura e porta l'Italia all'approdo della libertà, della democrazia, della Costituzione. La vita democratica, dopo il cupo del degno fascista, ha le sue radici nella resistenza, iniziata qui, in Abruzzo. Vive la resistenza, viva l'Italia libera e democratica.